Un solo dito può valere fino a 130.000 euro? Un dito, un dito perdente, un dito con i crampi, un dito vincente, un dito, un dito che ha perso l'anno scorso. Quando quello che ti separa dal tuo obiettivo è un solo clic, davvero vuoi affidarti a un dito qualunque? Sei sicuro di essere il più rapido a cliccare? Questo non è un videogioco che se perdi puoi iniziare da capo. Non te la giocare senza allenamento. Il simulatore Click Day ti permette di allenare in modo individuale o collettivo i tuoi migliori cliccatori. Scegli il tuo trionfo di domani grazie al simulatore Click Day. Simulatore Click Day, il clic giusto. Ok. 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 Grazie a tutti